Il covid non esiste. Se lo sono inventati grandi per non andare al lavoro. Dove sta? Nell'aria? Nella saliva? Non mi para di vedere il covid. Dicono che è piccolo, pure io sono piccolo. Eppure mi vedo. Basta con le mascherine. Ieri mia madre si è portata a casa una della seconda. Pensavo che ero io. Fatevi licenziare da scuola. Ssh, ci sta sentendo forse una multinazionale. La mano sporca è bella. Ci puoi fare scherzi alle bambine. Ci puoi pettinare i capelli che rimangono appiccicati. Le orecchie però lavatele. E basta con la distanza. Come faccio a dare uno schiaffo? Come faccio a ruppare le merende? Il covid non esiste. Aria o meno esiste. I super pigiamini esistono. Peppa Pig esiste. Non esiste il covid. Ah, dimenticavo. La terra è piatta. Una volta con la bicicletta sono andato dritto dritto. Ed è finito il mondo. Figliolo. Stai in bagno. Ah, vabbè. Ma che sei tu che hai usato la telecamera? Forse. Come forse? Allora. 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 Allora.